L'ultimo falò di confronto della puntata di Temptation Island, l'ultima, in onda il 25 luglio è quello con Siria e Matteo protagonisti. Un falò all'insegna dell'amore, tanto che anche il conduttore Filippo Bisciglia si è commosso due volte. Lei arriva e lui sbotta a piangere. Matteo inizia a parlare, voglio chiederti scusa per non averti mai mostrato il mio amore. È giunto il momento che ti dica qualcosa che mi tengo dentro da molto tempo. Purtroppo da piccolo sono stato vittima di bullismo perché ero piccolo, davo attenzioni ed ero buono. Questi ragazzini mi hanno preso di mira, mi picchiavano e mi dicevano che non era da uomo essere dolce. Il falò. Penso che tu abbia capito che io non mi sono sentita capita per molto tempo, spiega lei. Allo stesso tempo vorrei che tu capissi cosa mi è mancato. Non ti ho detto tutto per paura di farti male. Ho messo in dubbio il sentimento che provavo nei tuoi confronti, ma dall'altra parte mi sono resa conto di quello che manca da parte tua. Mi spiace dirtelo ma non mi sono sentita mai apprezzata da te. So che sei fatto così però dall'altra parte non è giusto io non ero felice. Lui replica, ho dovuto farmi questa maschera e nascondere il mio vero io, sono sempre stato dolce, la persona che dà attenzioni e che però si era persa. Quindi le fa due regali. Uno è un corso di tango argentino, grande passione di lei. E poi un weekend ad Amsterdam, glielo chiedo da sette anni, mi diceva che c'era già stato, dice lei. Mi mancavano questi occhietti, aggiunge la ragazza. Matteo allora, anche i tuoi, e si baciano. Logicamente escono insieme.